Musica 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 di legno, fin quando raggiungero più o meno erano dritte, dritte come questo pezzo qui, però quelli che hanno lavorato venivano con questo attorezzo qui che si chiamava balettone, vai detto come si chiamava, veniva sbrossato, questo e questo che stavano il baletto, e poi veniva messo praticamente il pezzo su un galletto, messo in mezzo alle gambe c'è e poi veniva, allora ovviamente con queste prezze qui che può soffrire, e poi veniva, e poi veniva, e poi veniva,